Spostiamoci in provincia di Bologna, nel comune di Argelato, dove, introdotta da un viale lungo più di 500 metri, sorge Villa Beatrice, esempio di villa di campagna del Bolognese. Nata come residenza nobiliare attorno alla seconda metà del Cinquecento, l'edificio prende il nome dalla contessa Beatrice Lanzi Facchini, moglie di uno degli ultimi proprietari della villa. Il complesso è composto da un corpo centrale, cuore della vita dei signori e della servitù, dai corpi e dalle corti laterali. In seguito a diverse vicissitudini, Villa Beatrice venne da prima donata all'Istituto di Cura e Riposo Giovanni XXIII e nel 1996 acquistata dall'amministrazione comunale. Un passato sontuoso traspare dai molteplici affreschi che abbelliscono le varie sale dell'edificio, alcuni di carattere commemorativo, altri a carattere descrittivo, tipico dell'epoca, e il giardino campagna che creò una continuità sostanziale con il paesaggio circostante, ospita oggi più di 95 esemplari di alberi di 15 specie differenti. Nel 2017 l'amministrazione comunale ha effettuato una ristrutturazione interna ed esterna per riparare i danni provocati dal sisma del 2012. L'esigenza di valorizzare il bene interagisce perfettamente con quelle turistiche, con giovamento per l'economia e la socialità del territorio su cui l'immobile insiste. Si è conservata la testimonianza storica dell'edificio salvaguardandone l'integrità e i divalori culturali, ma al tempo stesso è stato rifunzionalizzato in un'ottica turistica e di sviluppo sostenibile. Oggi Villa Beatrice offre la possibilità di visite guidate e ospita esposizioni, mostre ed eventi culturali. Il patrimonio storico-culturale concorre alla formazione dell'identità locale e nazionale ed alla diffusione del concetto di bene comune, quale eredità da trasmettere. Tutto ciò stimola il senso di appartenenza e di responsabilità dei cittadini verso il patrimonio culturale medesimo, rinsaldando la cura e l'attenzione per il proprio territorio.